Vasto incendio nel pomeriggio nella zona industriale di Caivano, in provincia di Napoli, che ha interessato la ditta di Gennaro che si occupa di recupero di rifiuti, compresa la plastica. In fiamme decine di balle di carta e plastica che erano stoccate nel piazzale. Subito l'intervento dei pompieri nel tentativo di spegnere le fiamme sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche gli uomini del nucleo operativo ecologico dei carabinieri di Napoli. Il fumo nero che si alza dalla zona è alto diverse decine di metri. Alcune settimane fa nella vicina San Vitaliano, in provincia di Napoli, era divampato un altro incendio molto simile a quello che si è verificato poche ore fa, ad essere interessata dal rogo una piattaforma ecologica di proprietà dell'azienda Ambiente Spa. La colonna di fumo di Caivano è alta oltre 100 metri e si vede a chilometri di distanza.